Mi pare che da Grillo sono venuti finora prevalentemente degli insulti. Io penso che Bersani sia la più matura e la più forte espressione della volontà di dialogo con le istanze del Movimento 5 Stelle. L'eliminazione di Bersani significa il netto indebolimento di una prospettiva di dialogo con quella parte dell'Italia. Grazie.